sfogarsi fa bene me lo hai detto tu salve ragazzi benvenuti nel canale alienology io sono ali e quest'oggi sono qui per parlarvi dello samuel ster numero 25 l'angelo del focolare eccolo qui ma prima di parlare del numero mensile di samuel sterne vorrei ricordarvi di visitare il sito e la pagina facebook di book of metal webs in mi raccomando link in descrizione allora ragazzi questo samuel sterne questo numero 25 ha diverse novità che sono state comunque potrete leggere nell'introduzione di gianmarco fumasoli ci sono un paio di novità importanti per quanto riguarda questo samuel sterne prima di tutto più che una novità è una conferma nel senso che chi legge samuel sterne come me dal numero 1 sa benissimo che samuel sterne appena compiuto due anni di vita editoriale quindi con questo numero questo numero 25 l'angelo del focolare inizia un nuovo anno il terzo anno praticamente di pubblicazione per quanto riguarda il rosso di edimburgo le altre novità quali sono la potete vedere subito in copertina il logo samuel sterne che cambia colore da questa da questo numero in poi per quanto riguarda questo numero è giallo ovviamente le copertine sono curate sempre da piccioni di vicenzo stanzillo però il design del logo il progetto grafico e lettering sono sempre di paolo altibrandi e da questo numero in poi il logo di samuel sterne cambierà sempre di volta in volta adattandosi ai colori della copertina per cui su questo numero troviamo samuel sterne in giallo l'altra novità che appunto gianmarco fumasoli qui ci dice è che le appunti dal derry length sarà un po più risicato dicendo anche che angus insomma si concederà un po più di riposo scriverà un po di meno e c'è il riassunto delle puntate precedenti per cui qui da questo numero in poi potete trovare un piccolo riassunto dove eravamo rimasti vi spiegano un po quello che si è visto nei numeri precedenti e quello che più o meno andremo a leggere in questo numero perché questo numero ragazzi ve lo dico subito è una storia molto intima più intimista è che a me è piaciuta è piaciuta molto ve lo dico subito perché è una storia abbastanza come dire di quelle che ti tengono col fiato sospeso più che altro ti fai medesimare molto nei personaggi una storia in cui ci si può medesimare per i problemi che la vita può dare cioè ma andiamo con ordine allora partiamo subito con la copertina di del solito trio valerio piccioni maurizio di vincenzo e emiliano tanzillo questo è questo ovviamente frontespizio ma la copertina è questa qui dove vediamo protagonisti il nostro samuel insieme a penny penelope penny che sarà la protagonista di questa storia in questa storia lei sarà la protagonista e tutto girerà intorno a lei con samuel che cercherà di dare la mano ve lo dico subito ragazzi in questa storia non apparirà padre d'ancano connor per niente quindi una storia incentrata su penny è una storia incentrata su samuel che cercherà di aiutare la sua amica allora andiamo subito a vedere soggetto e sceneggiatura di antonella liverano moscoviti che abbiamo già visto sul samuel stern extra di quest'anno con la storia samane dove c'era appunto una storia dedicata a penny i disegni sono di lisa salsi che abbiamo già visto sulla serie regolare di samuel stern numero 11 l'abisso copertina come al solito piccioni di vincenzo tanzillo logo progetto grafico lettering paolo altibrandi illustrazioni frontespizzo terza e quarta di copertina antonio mlina rich l'introduzione di già marco fumasoli più o meno vi ho detto di cosa parla molto interessante e poi c'è l'appunto dal derrile con il riassunto delle puntate precedenti allora i disegni di lisa salsi mi sono piaciuti perché già mi erano piaciuti all'epoca del numero 11 l'abisso quindi dal numero 11 che comunque è datato un anno fa più o meno ottobre 2020 ad oggi i disegni sono molto molto belli molto ben caratterizzati i volti qui vediamo appunto penny ve la faccio rivedere penny eccola qui mi sono segnato anche qualche tavola sì mi sono segnato qualche tavola pagina 22 credo anche se qui i numeri non si vedono benissimo perché comunque con gli sfondi oscuri gli sfondi sono molto belli insomma però c'era una tavola in generale che mi era piaciuta molto anche questa qui comunque i disegni di lisa salsi sono veramente molto ben fatti una storia tutta al femminile insomma si parla del rapporto insomma di si parla il mondo di penny della meccanica amica di samuel tifosa degli hearts of midlothian squadra di calcio scozzese di edimburgo insomma i disegni sono molto ben fatti si sposano bene con la storia di antonella liberano moscoviti che secondo me ha messo su una storia molto molto come dire emozionante anche ora vi dirò perché allora la storia se per sé ragazzi cos'è cioè io volevo ovviamente darvi la mia opinione senza senza spoilerare nulla quindi come ben sapete io cerco sempre di non spoilerare tanto sulla storia ma vi darvi l'input e magari consigliarvi la lettura nel mio piccolo insomma allora la storia di che parla inizia subito con samuel che va a suonare a casa di penny penny è triste perché con la sua ragazza ellison non si vedono più e li racconta un po c'è la storia è un racconto di penny a samuel penny racconta che ha questo fratello bryce che ha avuto un incidente e non è più quello di prima va ad un incontro dove c'è praticamente il gruppo di sostegno dove suo fratello cerca di prendersi nella vita e c'è questo craig lei ha a che fare con craig e vede queste due ragazze queste due giovani donne che non conosce perché comunque era già andata altre volte lì a quel gruppo alle riunioni per accompagnare suo fratello bryce lei insomma va ad accompagnare il fratello bryce e trova queste due ragazze due sorelle la sorella barker abigail ed ellie parker quindi abby ed ellie queste due sorelle saranno fondamentali per il proseguo della storia perché comunque penny aveva bisogno insomma era aveva litigato da poco con la sua ragazza ellison aveva bisogno di magari sapete ragazzi quegli incontri che si fanno durante come dire durante la vita ci sono sempre degli incontri che poi si possono rivelare importanti per il nostro futuro e in questo caso penny incontrerà le due sorelle abby ed ellie barker di lì a poco insomma andrà anche a casa loro perché praticamente abby ed ellie le incontra dopo che c'è un guasto alla macchina guarda casa c'è un guasto alla macchina delle due sorelle e dato che ovviamente penny fa il meccanico insomma lei gli si offre insomma gli dice che ti aggiusto io la macchina di lì a poco le invita praticamente lei va a casa di abby e ellie e scoprirà che questa casa ha qualcosa che non va a qualcosa che non va e soprattutto la sorellina la sorella più piccola di nove anni perché abby ed ellie sono due sorelle e abby gli spiega che ellie è più piccola di nove anni hanno perso la madre hanno perso il padre perché ha avuto un infarto la madre ha avuto un ictus ed è ricoverata in un istituto non sta bene per cui le due sorelle vivono da sole penny cercherà insomma di conoscerà queste due sorelle e vedrà che la sorella ellie la sorella più piccola qualcosa che non va perché lei ha studiato da biologa però ha avuto un problema mentale e abby gli dice che sua sorella è come se fosse tornata bambina ha un rapporto conflittuale quasi con la sorella ma se ne prende cura un po come fa penny con suo fratello bryce insomma penny troverà subito come dire la similitudine e quindi ci sarà il feeling giusto per conoscere abby barker si conosceranno andranno a cena eccetera eccetera però la casa questa casa sembra avere problemi abby tra l'altro gli spiega che è stata sposata con suo marito andrew ma si era lasciata con lui e poi non vi dico altro ragazzi se non poi vi dico tantissimo sulla storia il succo della storia ragazzi è quello che a me ha suscitato leggere questa storia è che i problemi della vita ragazzi purtroppo samuel anche in questo numero i problemi della vita ragazzi ci sono ci sono e ti fa pensare un po questa lettura ti fa un po pensare una lettura quasi come dire ti fa stare anche un po male nel senso a sentire queste cose il rapporto tra due sorelle il rapporto tra un fratello e una sorella in questo caso è penny con suo fratello bryce il rapporto protettivo che penny ha con bryce ma il rapporto protettivo che anche abby ha con sua sorella ellie samuel che cercherai di aiutare perché all'inizio praticamente lei penny chiede aiuto a samuel dicendo ho bisogno del tuo aiuto perché credo che ci sia una possessione ovviamente voi non vi dico se sarà una possessione oppure no però il rapporto tra le due sorelle abby ed ellie più il rapporto di penny che ha poi nella conoscenza con ebbe e con suo fratello ovviamente con suo fratello bryce questa cosa fa di questo numero secondo me è un numero veramente di buon livello forse per quanto mi riguarda uno dei migliori dei numeri usciti finora di samuel stern siamo arrivati ormai al numero 25 samuel stern esce ne dico ormai da due anni però quello che posso dirvi ragazzi che è una storia prendetela con le pinze leggetele cioè prendetela con le pinze stavo dicendo ma leggete il numero leggete il numero con coscienti che si tratta di una storia che può colpire può colpire soprattutto ragazzi lettura scorrevole lettura scorrevole io leggevo ma non mi rendevo conto dell'andare cioè nel senso praticamente le pagine la storia scorre ragazzi la storia bella è molto ben disegnata molto ben raccontata ci voleva un approfondimento del personaggio di penny secondo me sia la moscoviti che lisa salzi e disegni hanno fatto liverano moscoviti e lisa salzi hanno fatto un ottimo lavoro e io mi complimento con loro secondo me è una buona lettura in quarta ricopertina il prossimo numero di samuel stern in edicola dal 29 dicembre l'ultimo il 2021 il numero 26 il figlio al prodigo anche qui una copertina molto bella e strana con il logo in viola e tutti i racconti dal derlin che ho già letto vi metterò qui se non avete visto la review e samuel stern anche in libreria insomma tutte le uscite di samuel però questo numero ragazzi questo numero 25 l'angelo del focolare ispirato non l'avevo detto meno male che mi sono ricordato ispirato al quadro di max ernst perché l'angelo del focolare è un quadro di max ernst e insomma lo si può vedere anche in questa copertina che è anche ben colorata e con il logo giallo secondo me alla grande però è ispirata al quadro di max ernst l'angelo del focolare una storia davvero che mi ha colpito e posso essere soddisfatto di questa lettura io come al solito mi consiglio questo numero 98 pagine bianco e nero 3 euro e 50 ancora per poco costerà 3 euro e 50 poi aumenterà anche samuel stern ma ci sta per cui vi consiglio questa lettura fatemi sapere nei commenti se avete acquistato questo numero cosa ne pensate se vi piace la copertina se vi è piaciuta la storia di senno insomma ragazzi risponderò grazie a tutti del supporto siamo quasi a 800 iscritti ragazzi un ultimo sforzo supportatemi ancora sbottatemi sempre perché ce ne saranno ancora di tanti video e tanti contenuti spero interessanti per cui ragazzi grazie ancora ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao